Bene, buongiorno, benvenuti al secondo appuntamento della giornata con le notizie web della città. Vediamo allora subito la viabilità. In via sperimentale, nelle vie adecenti a piazza Vittorio Veneto e in piazza Gramma del Dio, l'istituzione del divieto di sosta con sosta riservata ai soli residenti della sottozona a pagamento B2. Ove non sia vietata da altri provvedimenti prescritti nei giorni e negli orari di seguito elencati, dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 8 del sabato, dalle ore 19.30 del sabato alle ore 8 della domenica e dalle ore 19.30, sempre della domenica, alle ore 8 del lunedì. Dal 16 luglio al 30 agosto poi saranno effettuati i lavori ai binari in corso Sommeie e angolo corso Turati. Il cantiere comporterà quindi il restringimento della carreggiata di corso Sommeie tra via San Secondo e corso Turati. Passiamo ora alle notizie del meteo. Come potete vedere, alle ore 15, temporali in corso, una temperatura intorno ai 28 gradi con un'umidità del 63%. Le previsioni, la depressione atlantica che ha portato a condizioni di cattivo tempo nella giornata di oggi è in veloce transito e quindi da domani mattina il tempo dovrebbe rapidamente migliorare. Grazie a questa graduale rimonta dell'alta pressione che porterà a condizioni di tempo piuttosto stabile e quindi sole per domenica. Allora andiamo velocemente avanti con le notizie web. Fino al 31 luglio sono in funzione i centri estivi Estadò per i giovani tra i 14 e i 18 anni che trascorrono in città parte o l'intero periodo estivo. I punti Estadò sono 5 parchi cittadini, propongono attività sportive, laboratori di musica, teatro danza, laboratori radiofonici e video. La partecipazione è gratuita, non è necessario per altri iscriversi, basta presentarsi presso ciascuna di queste sedi armati di grande voglia di divertirsi. A questo punto passiamo alla visione delle webcam sulla città. Vedete la webcam davanti a Palazzo Civico con uno scarso passaggio di persone in questo momento dovuto probabilmente anche al cattivo tempo. Poi la rotonda Marroncelli con un traffico anche qua molto scarso e quindi abbastanza libero. Su invece Corso Agnelli e Corso Cosenza vedete un leggero traffico per quanto riguarda la parte di Corso Cosenza. Quindi sempre le telecamere fornite da 5T. Vediamo l'incrocio tra Corso Trapani e Via Tirreno. Anche qua il traffico è scarso, sempre andando avanti al Rondo della Forca potete vedere il traffico sempre assolutamente tranquillo. E quindi l'ultima telecamera in Corso Turati e Corso Sommelier vedete dei lavori stradali ma il traffico anche qua non ha subito interruzioni. A questo punto, benché piova e probabilmente comunque la situazione dovrebbe andare a migliorare, vediamo con Matteo De Simone quale saranno le cose che andremo a fare questa sera. Sempre alle 21.30 ma alle Gru Village di Grugliasco. Infine un appuntamento col cinema, al Cinema Massimo in Sala 3 e via Verdi 18. Vi segnaliamo per la retrospettiva su Lars von Trier il film L'Elemento del Crimine. Vi segnaliamo poi che in uscita il nuovo numero di Torino Web News, il settimanale culturale. Questa settimana siamo andati a esplorare la nuova mostra allestita alla Fondazione Merz, incentrata sulle opere di Luisa Rabbia. Parleremo anche di un programma di appuntamenti intitolato Meteorite in Giardino, sempre alla Fondazione Merz, per tutto il mese di luglio. Per questo oggi è tutto, ringrazio Mario Parrena che ci ha aiutato nella messa in onda della puntata. L'appuntamento con la notizia del web della città è per lunedì alle 9.15. A tutti voi un buon fine settimana. A tutti voi un buon fine settimana.